buongiorno a tutti bentornati dunque sono felicissimo perché in questo momento stiamo promuovendo i video dei testimonial dei ragazzi che stanno facendo con noi la scuola di formazione di yoga e ne avete visto uno diana che parla ma nel prossimo periodo ne pubblicheremo altri guardate li sono molto carini e soprattutto sono felice perché è una testimonianza che mi fa sentire molto realizzato rispetto a quello che sto facendo perciò sono entusiasta di condividere con tutti quanti il regalo che fanno alcuni di questi studenti nel condividere l'esperienza ma in questo video non sono qui per parlarvi di queste cose in questo video sono qui per raccontare qualcosa che riguarda il linguaggio e come funziona la mente o almeno cominciamo qualche video sulla funzionalità come la nostra mente agisce il mio nome è davide barchi aiuto le persone e le aziende ad evolvere lo faccio con lo yoga la meditazione l'aikido e il counseling e lo faccio a contatto uno studio nel quale ogni anno entrano circa 300 persone che come me ricercano la felicità se questi video vi piacciono iscrivetevi al canale mettete un mi piace aiutateci a crescere via qual è la funzione del linguaggio? se chiedo questa domanda quando chiedo questa domanda la maggior parte delle volte la risposta è comunicare e non è soddisfacente c'è uno studioso un grande studioso del nostro tempo che si chiama Noam Chosky che dice una cosa estremamente illuminante è un po' ovvia anche se guardiamo le tradizioni orientali ma per noi occidentali a volte le cose antiche le scordiamo Noam Chosky dice che il linguaggio la funzione principale del linguaggio è uno strumento della mente il linguaggio è uno strumento della mente vuol dire il linguaggio serve per pensare pensate però questa cosa voi ora mentre tu mentre ascolti quello che io ti sto dicendo in un qualche modo ripeterai alcune delle parole che io sto dicendo dentro la tua mente e poi attraverso delle altre parole le giudicherai dirai ah sì è corretto non è corretto mi piace non mi piace valuti e lo fai attraverso un processo ti ricorderai di tue esperienze passate e lo fai tutto quanto molto probabilmente attraverso delle parole e con queste parole formoli un pensiero un grossolano sottile e va da un vago a un pensiero preciso perciò più la mia parola è precisa più sono capace di racchiudere all'interno di una parola delle caratteristiche delle qualità precise di quello che osservo attraverso i miei sensi più diventa efficace la mia formulazione dei pensieri più diventa preciso il modo col quale analizzo e agisco nella realtà dunque è vero però che la comunicazione è uno dei fattori importanti del linguaggio e questa cosa è interessante perché qui vi cito un altro personaggio che amo profondamente Krishnamurti che era un saggio un filosofo del secolo scorso il quale ad un certo punto gli hanno chiesto maestro qual è la prova che sei vivo lui è stato zitto ci ha pensato e poi è arrivata la sua risposta che come sempre le risposte di Krishnamurti sono un po' lapidarie vuol dire sono forti precise e semplici lui ha detto che la prova del fatto che io sia vivo è la mia possibilità di entrare in relazione con gli altri io sono vivo fin tanto che sono in relazione sono in relazione vuol dire che creo un processo tra ciò che è dentro e ciò che è fuori e lo faccio attraverso la comunicazione e lo faccio partendo da uno schema mentale di pensieri che ha organizzato strutturato dentro di me noi abbiamo tanti modi diversi per definire ad esempio i colori dentro alla parola rosso ad esempio per un bimbo che ha appena iniziato a giocare con i colori rosso significa tutti i tipi di rosso ma se noi prendiamo ad esempio un pittore ecco un fotografo dentro la parola rosso non c'è tutto il rosso non è sufficiente per lui dire rosso per descrivere la complessità di tutte quelle che sono le gamme cromatiche del colore rosso e allora avrà tanti nomi diversi per definire in base alla luce in base ai gradienti che ha dentro la specificità del rosso in oriente ci sono ad esempio diversi modi per definire la mente perché non c'è una mente sola c'è ad esempio manas, città, c'è buddhi ci sono tante menti che hanno delle funzioni diverse e allora vedete come il linguaggio, come le parole che io uso mi servono per diventare sempre più preciso, sempre più fine nella formulazione dei miei pensieri e in un qualche modo noi osserviamo la realtà vedo quello che ho intorno e lo descrivo dentro di me attraverso un processo di parole un processo dialogico perciò mi creo in un qualche modo un racconto della realtà in base alle parole che io conosco vedo il clima ad esempio e riesco a identificare il clima in base a come lo riesco a descrivere dentro di me vuol dire le giornate sono nuvolose sì però potrebbero essere di tanti tipi di nuvolosità diversi oppure sono assolate ma ci sono tanti tipi di giornate assolate più sono preciso più riesco a raccontarmi la realtà in maniera il più possibile veritiera chiaro è sempre un'approssimazione perché è sempre una traduzione tra quella che è la mia esperienza attraverso i miei sensi di una percezione esterna a un mio schema interno di riferimento di conseguenza noi ci raccontiamo quello che accade la nostra vita in un qualche modo è un grandissimo racconto mentale questa cosa è fenomenale c'è una frase di un testo antico che si chiama Yoga Vasishta che dice il mondo è come l'impressione che lascia il racconto a una storia sapere perciò riuscire essere in grado di riuscire a descrivere la mia storia, la mia realtà in maniera efficace diventa uno strumento essenziale per la mia crescita perché in base a quello che io mi racconto in base a come descrivo dentro di me la realtà sarò in grado di andare verso un futuro di un certo tipo immaginate di usare solo parole negative e allora genererete dentro di voi un sistema negativo che vi predisporrà a ricevere in maniera difensiva negativa e in un qualche modo anche violenta la vita, la realtà per come si manifesterà a voi pensate invece di riuscire a vedere sempre il lato positivo delle cose ci sono persone incredibili che riescono continuamente a vedere la possibilità e il lato positivo ecco, loro avranno sempre questa capacità perché si descrivono la realtà in questo modo il modo col quale noi descriviamo la nostra realtà condiziona il nostro futuro ci fa rielaborare il nostro passato e ci predispone al futuro che vogliamo realizzare le parole perciò hanno assolutamente un potere è un po' come dire che appunto di nuovo torno all'esempio dei pittori siete un pittore, avete tre colori certo potreste essere Picasso ed essere fenomenali o un grande pittore ed essere fenomenali lo stesso ma immaginate la complessità di gamma che potete usare con le sfumature cosa riuscireste a descrivere in che modalità riuscireste a descrivere la realtà usando tante, tante tonalità diverse le parole sono come i colori per un pittore più ne conosco, più riesco ad usare la parola appropriata più questa mi predispone a una vita di un certo tipo la nostra vita è un racconto dobbiamo essere assolutamente responsabili e capaci di raccontarla nel migliore dei modi se vogliamo avere un racconto che ci piace non essere vittima di questa cosa nessuno vi può togliere la capacità di usare le parole come volete si dice che la penna è una spada e la mente è il temperino per questa cosa qui per il fatto che le parole veramente cambiano il modo col quale voi vedete la realtà in quanti modi sapete descrivere quello che vedete? di questi c'è un modo migliore c'è un modo che vi predispone meglio ad ottenere il maggiore nutrimento di quello che andate a vivere dopo che vi predispone per essere nella migliore condizione per essere voi stessi ecco usatelo non accontentatevi di ripetere non ripetetevi e cercate di eliminare il più possibile le parole che abbassano la vostra energia perché in un qualche modo l'ultimo passaggio che voglio condividere con voi è che le parole hanno un potere hanno un potere in questo senso io vivo un'esperienza la descrivo dentro di me con il mio verbalizzare con le mie parole e questa si lega profondamente dentro il mio essere nel mio corpo nelle mie viscere nella mia struttura nel mio mondo energetico attraverso le emozioni perciò ho quel vissuto quelle parole che lo descrivono e si agganciano si cristallizzano in noi con le emozioni nel momento in cui io ripeto delle parole simili o uguali a quelle che ho vissuto in quel momento tutto quel vissuto riemerge e allora la parola è una chiave che mi apre a una predisposizione che mi apre a un passato e che in un qualche modo mi può permettere anche di rielaborare di andare oltre immaginate di non poter parlare utilizzando il passato facciamo un gioco di fantasia un gioco distopico non reale ma potenzialmente possibile nel quale la nostra lingua l'italiano non avesse più da questo momento il passato non potremo più raccontare le storie del nostro passato immaginate allo stesso modo se la nostra lingua la vostra lingua non avesse più il futuro non potreste più raccontare il futuro ma non tanto perché lo voglio raccontare il problema è più alla base più alla sorgente non riuscirei a pensare al passato non riuscirei a pensare al futuro riuscirei a stare solo specificatamente nel presente non lo so forse è una cosa che sanno fare gli animali noi possiamo solo immaginarla una cosa del genere ma se io non ho la parola che descrive ciò che è accaduto ieri non posso pensarlo se io non ho la parola che descrive ciò che potrà accadere domani non posso pensarlo allora vedete come il vostro pensare e come il tradurre la vita fuori è fortemente condizionato dalle parole che scegliete e c'è una parola che tante volte in italiano è usata male che è un po' terribile quando la sento quando nei vari dialoghi con le persone con gli incontri individuali salta fuori e questa parola è ormai a parte che la parola ormai ha un'etimologia particolare ed è difficilissimo tradurla nelle altre lingue oramai pensate ditele dentro di voi e pensate che cosa accade dentro di voi mentre dite oramai ormai ecco quella è una delle parole che ci porta giù usata comunemente valutate scegliete con accuratezza le parole che usate e le parole che pensate perché la realtà cambierà nel modo in cui la descrivete raccontate la realtà raccontate la vostra vita nel migliore modo che potete e diventerà un libro fantastico un racconto fantastico non accontentatevi non fatela scrivere a qualcun altro usate le vostre parole e scrivete il vostro racconto siete autori di voi stessi se questo video vi è piaciuto io spero che vi sia piaciuto a me è piaciuto parlare di queste cose mi ispira sempre mi esalta un sacco e di nuovo condividetelo per piacere iscrivetevi al canale e ci vediamo la prossima settimana con il video che verrà non vi svelo nulla di cosa faremo namaste buona pratica a tutti